Oltre all'associazione di volontariato del verde e alle figure istituzionali erano presenti anche qualche cittadino che hanno dato una mano nel raccogliere quelle sporcizze che erano state lasciate per terra e nel fosso a fianco del parco giochi delle sporcizze che sono solamente la punta dell'iceberg di questo problema che da anni è presente qui a Padiglione. Qui diciamo questo parco che è un bellissimo parco perché ci sono anche due campi da calcio quindi mio figlio ha 14 anni con i suoi coetanei vengono qui a giocare per dire a calcio però tante volte è capitato magari dei gruppetini di ragazzini ma anche piccoli perché è capitato anche ragazzini piccoli mi hanno raccontato anche proprio i cittadini che vanno a fare i dispetti hanno rotto tutta la staccionata l'hanno buttata di sotto rompono i segnali stradali li tirano di sotto è capitato ma questo anche in pieno giorno in più una sera mio figlio che era qui nel parco era uscito verso le 5 e mezza è stato aggredito da una ragazza ubriaca di 15 anni poi è arrivato il fratello di 19 e niente è stato aggredito per una banalità per una futilità io sono sincera io lui mio figlio non si è difeso perché io gli ho insegnato a rispettare le persone rispettare le donne perché è stato aggredito da una donna e da lì sono intervenuta io sono nata ai carabinieri ho fatto una segnalazione spero che chi gli succeda lo faccia perché se noi non ci mettiamo tutti insieme queste cose non riusciremo mai a debellarle voglio dire e più non solo questo è sempre stato un parco dove i ragazzini venivano i bambini si conviveva insieme negli ultimi 5 anni so che addirittura i bambini non li portano neanche più qua cioè è un peccato perché c'è la scuola non ci sono i pericoli cioè è veramente un peccato e non so bisognerebbe fare qualcosa ecco io più di segnalare di fare non so ecco spero che gli altri facciano la stessa cosa avrebbe qualche consiglio per il comune su come intervenire? Allora io la banchetta magica non ce l'ho però io sono un genitore e mio figlio io per dire l'ho avvisato perché io quando è successo che è stato aggredito io mi sono assicurata se era vero no se era vero c'erano dei ragazzi gli ho chiesto come è andata non è che io a spada tratta ho creduto a mio figlio o credo agli altri io prima voglio sapere ecco io secondo me soprattutto per i minorenni intervenire con i genitori cioè non ci sono le famiglie dietro molti sono abbandonati a se stessi è logico che un ragazzino abbandonato a se stesso fa quello che gli pare purtroppo al giorno d'oggi non si dicono più no ai figli e quello è il problema bisogna dire i no e parecchi no